A meno di dieci giorni dall'avvio del Mondiale di Formula 1 in programma il prossimo 15 marzo in Australia, si registra un moderato ottimismo in casa Ferrari. Le parole del presidente Marchionne hanno scosso l'ambiente in termini positivi. La macchina c'è ed i piloti sono gasati e dice, credo che il Mondiale sia una cosa dovuta. Sui risultati che la Ferrari otterrà nella stagione che sta per cominciare, lo stesso presidente dice, saremo alla pari con la Red Bull quando andremo sul circuito. Non vi voglio sfinanciare né essere critico. Ricordiamoci che meno di un anno fa, quando sono arrivato, la situazione non era buona. Intanto, Fernando Alonso non sarà presente all'esordio del Mondiale proprio domenica 15. Infatti, sul Consiglio dei Medici rimarrà a riposo ancora per qualche giorno dopo l'incidente avvenuto nei test spagnoli all'inizio di febbraio.